amici di armi e tiro eccoci a voi con un'altra puntata della nostra academy che come ormai avete imparato a conoscere si propone di cercare di sbrogliare la matassa della normativa in materia di armi che come avete già avuto occasione di intuire è tutt'altro che lineare la protagonista diciamo della nostra puntata è una delle questioni tutto sommato apparentemente più semplici ma anche più insidiose nelle sue articolazioni pratiche che è la vendita per corrispondenza delle armi è consentita non è consentita bisogna capire che cosa è possibile fare e che cosa invece non è possibile fare avendo presenti quelle che sono le indicazioni fornite dalla legge allora diciamo in prima battuta che uno degli aspetti tra virgolette più insidiosi è che la normativa in merito all'acquisto diciamo per corrispondenza delle armi da fuoco o da sparo in generale è cambiata nel tempo ed è cambiata in tempi relativamente recenti diciamo che la materia fino a questo fino a un certo punto era regolata dall'articolo 17 della legge 110 del 75 che regola tuttora la materia ma in un modo diverso perché nel frattempo è stato modificato questo articolo 17 il quale inizialmente diceva sostanzialmente che era consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza tra diciamo nei confronti degli acquirenti che erano in possesso della licenza di licenze diciamo per attività commerciali o industriali in materia di armi quindi sostanzialmente armerie o altri produttori di armi avevano la possibilità di spedire per corrispondenza l'uno all'altro le armi medesime oppure c'era anche la possibilità e sottolineo c'era al passato la possibilità anche per il privato di acquistare per corrispondenza le armi comuni da sparo tramite un nulla osta da richiedere però al prefetto della provincia non al questore questa situazione è stata modificata in particolare col decreto legislativo 104 del 2018 che è andato a intervenire nell'articolo 17 della legge 110 sostituendolo con un altro testo che andiamo a leggere ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione esportazione trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo alle persone residenti nello stato è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a un contratto a distanza qualora l'acquirente sia autorizzato a esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi ovvero se privo delle predette autorizzazioni provveda al ritiro dell'arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi muniti rispettivamente delle licenze di cui gli articoli 31 e 31 bis del regio decreto 18 giugno 1931 numero 773 di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza o in mancanza al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario e c'è ovviamente anche una sanzione per trasgressori che è la reclusione da 1 a 6 mesi la multa fino a euro 154 qual è la differenza sostanziale la differenza sostanziale è che non è più possibile farsi spedire per corrispondenza a casa un'arma comune da sparo bensì anche nel momento in cui un'arma sia stata per esempio vista sul sito di un'armeria che magari si trova situata a una considerevole distanza rispetto a dove l'acquirente ha la propria residenza non è possibile che l'armeria la spedisca direttamente a domicilio dell'acquirente bensì deve appoggiare quest'arma presso un'altra armeria e sarà poi in quell'armeria che l'acquirente finalmente andrà a ritirarla fin qui diciamo tutto sommato niente di particolarmente straordinario difficile da capire l'aspetto un pochino più insidioso c'è invece su una particolare tipologia di armi che sono come al solito ne stiamo parlando spesso in queste nostre puntate delle armi ad aria o gas compressi di modesta capacità offensiva e delle repliche di armi monocolpo ad avancarica cioè le cosiddette armi di modesta capacità offensiva nel loro nella loro accezione più ampia ebbene la materia delle armi di modesta capacità offensiva è regolata da un decreto ministeriale che è il 362 del 2001 il quale però attenzione dice che per la vendita per corrispondenza delle armi di modesta capacità offensiva che ricordiamo sono di libera vendita ai maggiorenni bisogna fare riferimento a quanto è indicato nell'articolo 17 della legge 110 del 75 quindi attenzione anche per quello che riguarda una tipologia di armi che è di libera vendita in realtà la spedizione per corrispondenza non è consentita direttamente a domicilio bensì anche per le armi di modesta capacità offensiva il ritiro deve avvenire attraverso un'armeria perché è importante sottolineare questo aspetto è importante sottolineare questo aspetto perché purtroppo soprattutto nell'area schengen nella quale diciamo l'italia è inserita è possibile possibile che siano diciamo ordinabili per corrispondenza attraverso siti di vendita armi di modesta capacità offensiva pensiamo soprattutto a quelle a gas o ad aria compressi che in realtà non possono essere spedite a domicilio quindi quantomeno in italia non possono essere ricevute direttamente a domicilio quindi attenzione questo è un aspetto molto importante perché ci sono effettivamente nell'area schengen dei siti che vendono per corrispondenza armi ad aria o gas compressi di modesta capacità offensiva o addirittura non di modesta capacità offensiva perché là nel paese d'origine magari non ci sono limiti alla libera vendita in termini di energia cinetica per quello che riguarda le armi ad aria o gas compressi tenete presente che nel momento in cui ve le fate spedire per corrispondenza e arrivano effettivamente a domicilio si stanno compiendo una serie di illeciti una serie di reati indipendentemente diciamo dalla gravità della situazione come minimo c'è la reclusione da 1 a 6 mesi la multa fino a euro 154 nel momento in cui soltanto diciamo si riceve un'arma di modesta capacità offensiva per corrispondenza se addirittura quest'arma di modesta capacità offensiva arriva dall'estero si sovrappongono altre situazioni potenzialmente molto rognose che vanno dalla importazione illegale di armi ad addirittura l'importazione appunto e la detenzione a tutti gli effetti di un'arma comune da sparo e non di un'arma di modesta capacità offensiva nel momento in cui l'energia è superiore a 7,5 joule quindi tenete presente che in italia non è possibile in nessun caso con nessuna eccezione farsi spedire armi comuni da sparo per corrispondenza e che conseguentemente l'unico punto diciamo ammesso per il ritiro di armi che provengono da un'altra armeria da un altro organismo diciamo di vendita è comunque sempre un'armeria questo è il punto fondamentale come al solito se avete delle domande delle richieste di approfondimento scrivetele nei commenti cercheremo di rispondervi